buongiorno belli e bentornati sul picchetto sul canale allora intanto volevo ringraziare davvero tantissimo i nuovi iscritti perché siete una marea a me mi fa davvero tantissimo piacere ringrazio anche i vecchi iscritti ringrazio tutti quelli che commentano i video, il canale siete davvero fantastici questo mi fa davvero piacere ma volevo anche ringraziare soprattutto la persona che mi ha donato degli oggetti che sono fantastici non ho altre parole questa persona è Maurizio Petroni che lui non lo fa per hobby lo fa perché gli piace e ha acquistato un apprezzo spettacolare e mi ha fatto questi fantastici oggetti la targhettina ancora sigillata in portaiavi guardate come sono belli sono fantastici sono fantastici davvero ora prima cosa farò da qualche parte mettere la nostra targhettina perché è stupenda vorrei trovare un posto carino e la targhettina vantaccata voglio ringraziarlo è spettacolare è stato proprio un dono bellissimo lui piace appunto incidere con il laser infine sono cose naturalissime non usa niente di chimico solo barre di acciaio e il laser basta ha preso il mio il disegno del logo e l'ha copiato e inciso sul una lamina d'acciaio e dei montagliami guarda io non ho parole davvero una cosa un dono davvero molto molto bello e questo mi fa davvero piacere perché cioè queste sono le cose belle da io ho voglia di condividerlo con tutti questo 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 dono che mi stavo fatto perché io ci sono rimasto davvero stupito ti ringrazio davvero Maurizio grazie davvero tanto perché è davvero di bello e un bello e ragazzi che dire è un video piccolo corto ma volevo appunto approfittare per parlare di questa persona e per ringraziare questa persona nello stesso momento ripeto ringrazio tutti ringrazio davvero tutti perché siamo arrivati per me sono tantissimi 800 e basta iscritti sono davvero tanti non me la spettavo e questo mi fa davvero tantissimo spero di continuare a fare dei video dove possano intrattenere un po di persone che vi piaccia continuate a iscrivervi continuate a seguirmi campanella like e al prossimo video ciao belli ciao ciao Grazie a tutti